Prima mi confessi il tuo amore e poi non rispondi mai alle mie telefonate. C'è una spiegazione per questo? Uffa, uffa! E adesso io in che modo dovrei rispondergli? Credi di poter scappare da me? Ma, che imbarazzo. Perché se credi di poterlo fare ti sbagli. Oiku, tu hai dei serissimi problemi, te lo hanno mai detto? Dimentichi le cose, non rispondi e sei una bugiarda. Va bene, hai ragione, Ayaz. Ma non sapevo cosa dirti dopo quella falsa dichiarazione. Lo so di aver sbagliato e di averti trattato male. E mi vergogno tantissimo. Devi, perché non è bello usare le persone. E questa volta la strada del perdono sarà veramente lunga. Perché? Hai intenzione di punirmi? Sì, pronta per le otto. Passerò a prenderti. Cosa? E indossa qualcosa di femminile. Se vuoi sembrare la mia ragazza, dovrai esserne all'altezza. Aspetta! Dove dobbiamo andare? A una cena. Saremo io, te, mete e sempre. Che cosa? Non posso, non ci vengo! Saremo io, ti vengo! No, no, no! No, no! Poi! No! No! No!